Esordio vittorioso per l'Arezzo Calcio Femminile, le ragazze a Maranto hanno infatti iniziato il campionato di Serie B proprio come avevano chiuso la passata stagione, vincendo. Il gioco si fa duro, ho detto l'anno scorso, l'ultima di campionato effettivamente si è fatto duro, una partita molto in equilibrio e quindi stiamo sempre molto più in tensione rispetto all'anno scorso quando era più calcolabile tutto. Qua non puoi sbagliare nulla e devi comunque concretizzare quando ci sono le palle giuste e quindi c'è poco da sperare sugli errori degli altri. Al turno d'esordio del campionato di Serie B l'Arezzo Calcio Femminile ha battuto 2 a 1 San Marino al Comunale Città di Arezzo grazie ai gol di Giussi Bassano e Giada Agnisci. Comunque ho giocato nella Torres, ho fatto il capitano quindi un po' questa cosa mi ha aiutato a prendere coraggio e quindi so come si possono sentire visto che era la prima partita o comunque dopo tanto tempo che non si giocava e mi sono sentita di incoraggiarle. Quest'anno penso che sarà un campionato che si deciderà tutto fino alla fine, molto competitivo e speriamo comunque di arrivare in alta posizione. Per Mr. Testini dunque subito tre punti per la classifica. Abbiamo detto, ripetuto da sempre, che avevamo le prime tre partite difficilissime e quindi era normale che fosse così. Ce l'aspettavamo, è stata una gara veramente difficile e complicata però fortunatamente ne siamo venuti fuori con un risultato positivo. Siamo contenti, sono contento per le ragazze perché alla fin fine poi lavorano tutta la settimana per l'obiettivo finale che è quello di vincere e quello di segnare.